E allora, dai 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 che ci siamo! Gli atleti si preparano di fronte a parete di flexi. Allora, iniziamo il push-up, in lecce, più avanti, valendo 5-20 kg. Ok. Judge, ready? Atlet, ready? Danga! 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.